Vicenza, la polizia scientifica si fa mobile fino a diventare virtuale grazie ad un nuovo sub attrezzato ad hoc. 15 per tutta Italia, quello presentato in piazza dei signori a Vicenza, coprirà il Triveneto e al teatro virtuale. Un vero e proprio laboratorio mobile dove poter analizzare, etichettare e conservare in un vero e proprio box frigo i reperti delle scene del crimine, garantendo in questo modo la catena di custodia dei reperti che saranno poi oggetto di ulteriori accertamenti in laboratorio. Analisi, dati, reperti, tutti che in tempo reale vengono inviati alla centrale operativa ed inseriti in una banca dati a Roma dove possono essere confrontati. Già 3.000 i verbali di sopralluogo inseriti, obiettivo arrivare in un anno a 30.000. Dalla scena del crimine c'è poi un altro importante passaggio che ci porta appunto nel mondo virtuale. Dalla scena del crimine, dalle immagini riusciamo poi a trasferirsi alla nuova attività che viene svolta presso i nostri laboratori di Roma, cioè il teatro virtuale per la ricostruzione tridimensionale della scena del delitto.